Dove siamo? Siamo a casa della Mary e ci stiamo preparando per andare in Portogallo per la seconda volta Facciamo un bellissimo video Facciamo tutto qua? Oggi è il primo giorno, Pieri siamo andati tutti a dormire dalla Mary a parte nera e poi siamo volati super presto e adesso facciamo l'allenamento qua, gli altri non io Buongiorno a tutti ragazzi, è andata benissimo la mattina abbiamo fatto un allenamento incredibile, davvero non tornava nulla ma è andato bene, sono andato a 6, riuscendo pure a sbagliare credo mi abbia battuto anche il boss qua dietro che filma Adesso andiamo a guiar the beer No, non è vero, come no? Da Goran? Dov'è Goran? Non è a Porto Andiamo per andare all'aeroporto Eh, all'aeroporto di Porto faceva ridere anche sta roba durante l'aereo che dicevano andiamo all'aeroporto di Porto, incredibile e dopo andiamo a guiar Vamos! Primo giorno del J-Walk Camp numero 2 Oggi partenza molto presto 5 del mattino, sveglia alle 7, volo a Porto Mentre aspettavamo Goran abbiamo fatto un po' di jogging al parco della città di Porto e poi siamo arrivati qua nel nostro hotel, Thermal Park Thermas Park e adesso abbiamo fatto la prima uscita in bosco molto challenging un terreno molto molto particolare molto tecnico però i ragazzi sembra che hanno preso subito abbastanza confidenza e vedremo nei prossimi giorni tipo di video Sempre in video? No Però avevo anche la bussola di Steppu Sì, 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 sì. 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 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 GO!